Buonasera a tutti, eccoci, siamo arrivati alla nostra ultima live dedicata al commento allo standard. Immagino sarete abbastanza contenti che sia finita questa lunga serie di dirette dedicate al commento allo standard. Insomma, scherzi a parte, siamo proprio arrivati alla conclusione di queste live e ancora una volta, per forza di cose, mi trovo a dover ringraziare davvero tutti per le visualizzazioni, anche chi ci segue indifferita, che sono poi la maggioranza di chi segue le nostre dirette e quindi, insomma, ancora una volta grazie davvero, è stata davvero una bella esperienza per quanto mi riguarda. Come vi dicevo, insomma, a me serve sempre per ripassare un po' tutte le cose che ho imparato negli anni e, insomma, poterle condividere da sempre, come dire, da sempre un po' di lucido anche alle cose che si sono già affrontate durante la propria esperienza, insomma, e quindi sono contenti. Quindi, insomma, cominciamo con i dovuti ringraziamenti davvero per tutti e devo dire che, insomma, certi aspetti hanno davvero interessato alcuni più di altri, insomma, come sapete siamo scesi un po' nel tecnico e quindi, per forza di cose, insomma, magari alcuni dettagli sono meno accattivanti rispetto ad altri, però, insomma, devo dire che comunque le domande non sono mancate, davvero, e quindi sono contento. Come vi dicevo, sabato, come ho, insomma, anche scritto sulla pagina, sabato avremo con noi Silvia Rossi e parleremo insieme a lei di un tema, secondo me, interessante, cioè, visto che, come dicevo anche durante le altre live, molte persone chiedono di entrare in questo gruppo per avere notizie intanto sulla razza in generale, ma spesso anche per buonasera Daniela, buonasera, benvenuta, spesso anche per così avere delle indicazioni magari molto generali, ovviamente, su che atteggiamenti adottare con i cuccioli, eccetera, eccetera. Poi, insomma, sono tutte cose che poi dal più esperto a quello al più sprovveduto, diciamo, sono tutte cose che possono risultare interessanti, quindi, e quindi, insomma, speriamo di fare una bella diretta anche con Silvia e poi vediamo, come vi dicevo, se fermarci un po' per l'estate o se magari continuare con qualche altra live. Comunque, insomma, tant'è, vediamo di concludere, se non altro, insomma, questa lunga sessione, vi dicevo, stasera, in effetti si conclude un po', si conclude un po' questa lunga, no, avventura una parola grossa, insomma, questa serie di live che davvero, insomma, mi avete dimostrato proprio un certo interesse e quindi sono contento. Questa sera parleremo, come avete visto anche nelle claim della diretta sulla nostra pagina, proprio concludiamo un po' quello che è tutto il discorso dello standard tirando un po' le somme. Intanto parliamo di una delle cose, direi, più importanti dello standard stesso, che è senz'altro il discorso legato alla taglia, perché come vedremo, insomma, è una cosa importante che in pratica fin dal riconoscimento della razza è stato un tema di dibattito forte all'interno anche del club inglese, quindi, insomma, lo vedremo. Parleremo poi, visto che quasi tutti gli standard, in realtà, di tutte le razze si concludono sull'atteggiamento da prendere, in particolare sarebbe un'indicazione legata agli allevatori e, ovviamente, eventualmente ai giudici di esposizione, ma, visto che abbiamo parlato lungamente nelle live scorse dei difetti che possono correre allevando questa razza, insomma, nei soggetti di questa razza, diciamo che lo standard si conclude appunto con una sorta di indicazione generale su come considerare e soprattutto perché considerare eventuali difetti, cioè in che misura e in che maniera, perché il difetto in sé, a meno che non sia un grave difetto dal punto di vista del temperamento e quindi del comportamento, stiamo parlando ovviamente dell'aspetto espositivo, cioè del cane che viene portato in esposizione, l'unico vero motivo per il quale solitamente, a parte il border, i cani vengono squalificati, quindi la squalifica è solitamente determinata o per gravi difetti morfologici, ma devono essere veramente molto evidenti, o per problemi, molto più spesso capita invece che i cani siano squalificati per problemi temperamentali, solitamente perché sono o eccessivamente timidi, ma a quel punto magari il giudice valuta se allontanare il cane o se decide proprio di squalificarlo, o diversamente, molto più spesso invece la squalifica riguarda cani che si dimostrano troppo aggressivi rispetto, in generale, rispetto al ring, rispetto agli altri cani, a parte alcune razze dove magari ce lo si aspetta, ma in assoluto l'aggressività verso le persone è sempre motivo di squalifica. Ecco, diciamo che nel border, perlomeno pensando allo standard inglese, nessun difetto è considerabile da squalifica, ovviamente pensando anche a vari gradi del difetto stesso, però in effetti insomma è una considerazione finale importante perché ci dà un po' l'idea di come considerare, cioè in base a cosa considerare appunto i difetti del cane. E poi concluderemo insomma con una, insomma chiudiamo un po' il cerchio riguardando un po' nel suo insieme capendo, insomma cercando di capire quale sia insomma la visuale giusta, l'ottica giusta in cui considerare il cane. Ripeto, anche se come dicevo all'inizio di questa live, siamo insomma quasi vicini alla pausa estiva, io torno comunque sempre a invitare, e magari anche le persone che sono già state con noi, che magari hanno qualche idea, hanno voglia di raccontarci qualcosa che riguardi il border o che sia magari un tema più generale che però è applicabile anche alla nostra razza, possiamo davvero concordare altre live, magari appunto dopo la pausa estiva, ci sono dei temi che magari non abbiamo, senza altro, perché i temi cinofilia sono tantissimi, temi che non abbiamo affrontato e che magari qualcuno di voi ha voglia di, magari di affrontare insieme a me, insieme a tutti quelli che poi ci guardano. E davvero, io insomma sono sempre in attesa di eventuali proposte. Avevo pensato appunto a questa, avevamo pensato insieme a Silvia di parlare di questa cosa dei cuccioli, perché in effetti insomma le domande spesso sono legate appunto al mondo dell'arrivo del cane in famiglia. Ciao, ben arrivato Facebook user. non vedo, non vede il tuo nome. E quindi insomma diciamo che perlomeno adesso, buonasera, buonasera. Perlomeno adesso abbiamo in programma quella, poi ci sono altri temi che mi piacerebbe magari affrontare, però insomma vediamo, ciao Emma, buonasera. Vediamo di affrontarli appunto con un interlocutore, perché insomma stare qui sempre a fare il maestrino alla fine vi stuferà senz'altro, insomma. E quindi insomma penseremo a qualche altra live. Per esempio avevo parlato con Daniela, anche se è un tema che magari non interessa proprio tutti, però magari anche una sorta di introduzione a quello che è il mondo delle esposizioni canine, visto che insomma buona parte di noi, perlomeno pensando agli elevatori, sono coinvolti in questo tipo di attività. E quindi magari insomma dare una visione il più possibile veritiera rispetto a questa disciplina potrebbe non essere male, senza l'intenzione di fare proseliti, però insomma visto che ne abbiamo parlato anche largamente in queste live, potrebbe essere magari risultare interessante per qualcuno, ecco. E quindi magari quella potremmo già pensare di organizzarla, adesso vediamo poi in che periodo. E quindi insomma, ripeto, torno a ribadire il concetto che sono sempre in attesa di proposte, torno ad invitare gli elevatori che ancora qui con noi non sono stati a palesarsi e magari a fare quattro chiacchiere come è successo con Daniela, con Isabel, con Vanessa, spero di non aver dimenticato nessun altro, non mi strangolerete. E vabbè, parlando di allevatori ovviamente, poi abbiamo avuto come sapete Andrea, Silvia, abbiamo parlato di altre cose. E quindi insomma sono sempre in attesa di eventuali proposte, anche per magari delle live con più persone, come mi ricordo forse all'inizio Emma accusava un po' il colpo di non poter interagire direttamente con gli altri interlocutori. Magari riusciamo a organizzare una live un pochino più corposa rispetto alle persone, magari con un tema in cui tutti possono, insomma, avere una, per carità, poi chiunque può avere un parere al di là della tecnica, al di là della competenza, però magari appunto riuscire a organizzare qualcosa di più, non dico leggero, ma qualcosa di più coinvolgente, insomma, in cui tutti possano esprimersi. Vedremo magari di organizzare questa cosa. Io vedo che sono passati già una decina di minuti, e quindi insomma comincerei, ecco, insomma, non siamo in tantissimi, però conto sul fatto, come in tutte le live precedenti, che ci siano poi delle visualizzazioni, come è successo peraltro, ci siano delle visualizzazioni a posteriori, insomma, al di là della live, e quindi comincerei, ecco. Adesso, come solito, mi devo spostare su PowerPoint, vediamo poi eventualmente se ci sono domande, poi le rivediamo insieme. Allora, siamo arrivati proprio alla fine di questo commento allo standard, che come sapete avevo pensato in solo i tre incontri, sono esattamente raddoppiati, ma tant'è, siamo qua, stiamo concludendo, e quindi direi bene così. Dicevo prima, visto che poi si sono aggiunte delle persone, insomma, concludiamo con proprio le note finali vere e proprie dello standard, quindi la taglia, io qui non l'ho scritto, ma parleremo di taglia ovviamente, come invece vedete, con la considerazione dei difetti, cioè come considerare i difetti, e poi delle conclusioni generali, insomma, che ci aiuteranno un po' a chiudere il cerchio, come dicevo. Allora, parliamo della taglia. Qui vedete intanto una foto di un cane, credo sia dei primissimi anni 20, quindi insomma a poco tempo dal riconoscimento dello standard, ma questo mi serve per introdurre poi il discorso. Allora, come vedete, parlando di taglia, parlando della taglia del border, lo standard prevede solo la misurazione del peso, cioè ci dà delle indicazioni solo riguardo al peso. Per chi non lo sapesse, quasi tutti, credo, gli altri standard, o comunque molti altri standard, pensando anche a razze molto diverse, solitamente al peso, cioè solitamente oltre alla nota del peso, è presente anche quella dell'altezza al garese. Ricordiamo, il garese è quel punto, diciamo, di sviluppo verticale del cane che corrisponde alla lunghezza che si misura dal piede fino all'attacco delle scapole del collo. Insomma, quella è la zona del garese, è un termine mutuato ovviamente dai cavalli, ma è un discorso che abbiamo già fatto. Questa cosa nel border manca. Per chi appunto si è occupato di questo commento allo standard, non è un caso, cioè non è una dimenticanza, non è, come dire, una cosa presa alla leggera. In realtà, insomma, si pensa che si sia preferito non citare questa cosa, intanto per non tagliare fuori determinati, adesso poi lo vedremo parlando, ma si pensa che la mancanza di elementi rispetto all'altezza al garese sia stata decisa per evitare di tagliare fuori, appunto, come dicevo, tutti quei cani che, insomma, diciamo, in odore di riconoscimento dallo standard erano piuttosto alti sugli arti, pur rispondendo anche vagamente, poi lo vedremo, al peso invece poi deciso parlando di standard scritto. Quindi, insomma, già allora, insomma, già appunto nel 1920, il dibattito sulla taglia del border era molto acceso. La ragione principale di questo fuoco che ardeva intorno a questo discorso è che, essendo appunto una razza che veniva allevata, diciamo, in maniera già piuttosto precisa, ma in mancanza di uno standard, le tipologie pur ascrivibili a quella stessa razza, come abbiamo visto quando abbiamo parlato della storia della razza stessa, erano piuttosto diverse. Cioè, c'erano cani che avevano una morfologia che magari rientrava più o meno nei parametri di peso che vediamo scritti qui, ma che a livello morfologico risultavano molto diversi. Diciamo, le due macro aree erano i cani più, diciamo, tozzi, con una proporzione di arto forse un po' più corto, insomma, più o meno come quello che vedete in questa foto, e invece dei cani che avevano una, come dire, una morfologia un po' diversa, erano cani forse più leggeri, proprio perché all'interno dello stesso peso si aveva un cane magari più alto sugli arti, più slanciato, con un collo più lungo, un collo, scusate, più lungo, eccetera, eccetera. E quindi si pensa che la mancanza di riferimenti voluta rispetto all'altezza algarese sia stata determinata da questo fatto. Una certa disomogeneità dal punto di vista della morfologia, diciamo, generale. Cioè, c'era probabilmente un certo, come dire, una certa, invece, di omologazione, non so se sia il termine giusto, tra i pesi dei cani. Cioè, parlando di, pensando a cani da lavoro, più o meno il peso era soddisfatto rispetto al peso che leggiamo. Mentre, mi ripeto, scusate, la morfologia no. Cioè, erano cani che, pur rispondendo a un certo peso simile, erano strutturalmente molto diversi. E quindi questa sarebbe, si dice, si pensa, sia la ragione per la quale non abbiamo riferimenti a livelli di altezza. Cioè, non ci sono riferimenti numerici. Lo standard prevede, appunto, come vedete, solo ed esclusivamente il peso per i maschi e per le femmine. Come vedete, insomma, parliamo di pesi, cioè, abbiamo a che fare con dei pesi di cani piuttosto piccoli, perché abbiamo, come leggete, da 5,9 a 7,1 chili per i maschi e da 5,1 a 6,4 chilogrammi per le femmine. E anche questo è un dato che, fin dalla stesura, ancora una volta, dello standard stesso, è stato molto discusso. Allora, noi sappiamo con discreta sicurezza che nemmeno nel momento in cui lo standard fu redatto e fu steso, scusate, cambio un po' la frase, cioè, erano pochissimi i cani in quel periodo, quindi appena, insomma, precedente riconoscimento, ma poi negli anni anche immediatamente successivi, erano pochi i cani che stavano, cioè, rientravano in questi termini di peso. Ovviamente non rientravano quasi mai, non in difetto, ma casomai non rientravano in eccesso, non pensate a diversi chili, insomma, c'erano cani. Comunque, in generale, era difficile, generalizzando, avere dei cani che fossero sotto i 7 chili per i maschi e sotto i 6 per le femmine. Era già molto, cioè, è proprio, insomma, è riportato anche nei verbali delle varie assemblee del club. Questo era un discorso che stava molto a cuore, cioè, il discorso del peso era il problema più sentito, proprio perché, forse anche determinato dal fatto che quei detrattori del riconoscimento dello standard avevano comunque fatto un lavoro, come dire, di discussione, anche con chi invece poi, in questo caso, il Border Trail Club, che poi è diventato il club di riferimento in Inghilterra, cioè, c'era comunque una sorta di compenetrazione delle idee, nel senso che, per poi il defunto Northamberal Club, il cane da lavoro doveva rimanere la cosa centrale, pensando allo standard. E questo ha determinato, si pensa abbia determinato, dei riferimenti di peso così precisi, che tra l'altro già allora non avevano, appunto, come dicevo, un riscontro nella realtà, cioè degli ottimi Border Trail da lavoro, che lavoravano sia sul lavoro, diciamo, classico, quindi come dicevamo, si occupavano, appunto, dei vari nocivi all'interno delle farm, sia per quelli che invece si trovavano a lavorare come cani, insomma, in ambito di caccia sportiva alla volpe, buona parte di questi cani che lavoravano in maniera efficientissima, non rientravano però in questi intervalli. Mi sono sempre chiesto per quale motivo allora, ma non io, insomma, penso che sia abbastanza, per chi è appassionato della razza, perché si è letto lo standard qualche volta, penso sia un pensiero, insomma, che viene un po' alla mente, per quale motivo, se un cane che comunque fa al 100% il suo lavoro e ha un peso, pensando a una morfologia accettabile, che abbiamo visto può essere più o meno diversa, ma in un'ottica di lavoro, per quale motivo uno standard deve, come dire, giocare a ribasso, se nella realtà poi questa cosa non successe, se nella realtà poi la cosa è diversa, e il discorso, cioè la ragione per la quale lo standard, cioè gli autori dello standard hanno deciso questa cosa, era proprio per evitare, intanto tagliare fuori in qualche modo tutti quei cani che fossero di molto oltre il peso consentito, e di molto parlo, insomma, di senz'altro un paio di chili in più, in eccesso, sia parlando dei maschi, dei maschi e delle femmine, e poi perché c'era appunto la volontà di conservazione dell'idea di un terror che fosse in grado in ogni momento, al di là del discorso temperamentale, di poter fare il lavoro per il quale era stato selezionato. E quindi, non a caso, su cui ho scritto una nota, in inglese, hard work condition, cioè questa frase è riferita, cioè questa, sì, questa frase in realtà è riferita appunto a cani che fossero attivi a livello del lavoro per il quale erano stati creati. Quindi un cane che in quel periodo, cioè parlai di hard work, cioè di condizioni di lavoro dure, voleva dire un cane che veniva senz'altro nutrito in maniera più o meno appropriata, ma che non aveva, come dire, cioè non c'era spazio per un cane che non fosse, è una parola che non mi piace usare, ma è molto moderna e mi permette di fare veloce, performante in qualche modo, no? Cioè un cane che fosse davvero sempre pronta a fare quello che doveva fare. Questo è questo concetto di hard work condition. Pensando appunto a questo tipo di atteggiamento, a questo tipo di prontezza al lavoro, gli autori dello standard hanno pensato di dare questi riferimenti. Diciamo che negli anni, praticamente da subito, come dicevo, la discussione era molto, molto accesa. si è fatto un po' i conti con questo tipo di atteggiamento nei dieci anni diciamo successivi a riconoscimento. Quindi si è visto che nei dieci anni, insomma, parlando di allevamento, ovviamente parlo dell'Inghilterra, nei dieci anni successivi a riconoscimento allo standard, standard, questa nota era stata più che altro una cosa alla quale ispirarsi. cioè esistevano cani che avevano incominciato anche a frequentare in maniera diciamo copiosa il mondo espositivo che rimanevano comunque anche dei cani con un temperamento diciamo ideale o comunque un temperamento che riportava al lavoro in Tana, sia che fosse quello sportivo o meno, ma questi parametri di peso rimanevano comunque quasi delle indicazioni da raggiungere, insomma più che mai da raggiungere ma nella realtà si faceva molto fatica ad avere dei cani che fossero che rientrassero in qualche modo in questi intervalli diciamo che fortunatamente mi verrebbe da dire l'atteggiamento sia degli elevatori che dei giudici più degli elevatori devo dire magari non tutti poi insomma come abbiamo detto per tanti altri aspetti ci sono stati di periodi della storia recente insomma negli ultimi cent'anni diciamo così in cui magari si è in alcune zone del mondo ma anche nell'Inghilterra stessa si è preferito dedicarsi più a certi aspetti che ad altri e questo ha portato degli sbilanciamenti però diciamo che questo riferimento alla taglia per chi ha leva border e cerca di selezionare correttamente mi verrebbe da dire che è un must da seguire ma non che sia una chimera irraggiungibile nel senso che io penso che per quanto riguarda l'esperienza mi permetto anche di pensare allevatori fuori dall'Italia credo che per tutti sarei abbastanza sicuro nel dire che per tutti in tutte le storie degli allevatori si sono avuti cani che magari di molto uscivano dalla taglia ideale e magari meno spesso si hanno avuto dei cani che rientravano invece nella media ci sta però insomma quella sorta di realtà che è la realtà della razza ma fin da quegli anni da quei primissimi anni in cui ci si avvicina abbastanza a questi parametri e quindi insomma in qualche modo questo è accettabile soprattutto pensando al fatto che in questa tendenza continua a questa ricerca del mantenimento di questa taglia anche se tutto sommato adesso è diventato quasi come dire un pensiero un ideale da raggiungere in qualche modo come la bellissima testa o come la morfologia che più ci piace ma che in realtà non sia così facile oggi come oggi avere dei cani che rientrano oggi come oggi come allora avere dei cani che rientrano in questi in questi intervalli di peso in realtà gli esempi ci sono nel senso che in epoche anche molto diverse sono in realtà qualcuno ci è riuscito come dire dal punto di vista della sembianza il bordetere è comunque un cane di piccola taglia parliamo di cani ben selezionati ovviamente di cani che poi magari avranno anche un riscontro come riproduttori tendenzialmente perlomeno in generale faccio un discorso molto generale questi parametri cercano sempre di essere cioè si cerca sempre davvero di rispettarli il più possibile e poi ci si riesce più o meno ma diciamo che esattamente come tutti gli altri dati mi viene in mente la testa come quella di una lontra è ovvio che parlavamo come se vi ricordate della proporzione famosa tra il muso e il cranio è ovvio che più che mai tutti gli allevatori appassionati vorrebbero avvicinarsi a quell'idealità di proporzione è ovvio che ci si prova e nello stesso modo ci si prova dal punto di vista del peso come dire anche in questo caso l'importante è cercare di davvero mantenere il più possibile mantenersi il più possibile vicini a questo tipo di riferimenti perché sappiamo tutti e penso sia un problema appunto come vi dicevo che gli allevatori in tutto il mondo mi verrebbe da dire si trovano ad affrontare cioè ad avere magari dei buoni dei cani di buon tipo che hanno tutte le caratteristiche accettabili quindi quelle che abbiamo visto la struttura la testa il pelo il temperamento assolutamente che però disattendono quella insomma questa cosa che sembra quasi davvero raggiungibile del peso giusto però insomma l'importante è davvero tenere sempre a mente questa cosa mi verrebbe da dire a livello espositivo non è semplicissimo gli esempi si sprecano ma non direi in Italia nel senso che un po' dappertutto anche in epoche diverse insomma ci sono stati cani davvero insomma che hanno sono gli slati vittoriosi dal punto di vista proprio delle esposizioni anche come riproduttori ma che superavano specialmente pensando ad alcuni maschi anche maschi storici pensando ad alcuni cani inglesi mai con delle taglie esageratissime però insomma comunque fuori standard in qualche modo in eccesso hanno comunque avuto una storia riproduttiva importante ripeto non stiamo parlando di aberrazioni parliamo di magari un chilo un chilo e mezzo a volte due perché insomma da sette a nove insomma poi il cane si incomincia a vedere cioè si incomincia a percepire che ci sia qualcosa che non va nella taglia poi insomma i giudici stessi hanno delle come dire quelli che conoscono bene la razza hanno delle come dire delle sottigliezze per capire anche in assenza di bilance perché comunque forse gli elevatori lo fanno io personalmente peso i miei cani quando sono arrivati sia da piccoli ma penso lo facciano tutti Daniela Isabel Vanessa insomma mi confermeranno questa cosa i cani vengono pesati insomma fin da piccoli si cerca di capire quale sia poi il risultato finale no? e quindi insomma per noi è abbastanza normale devo dire alcuni giudici insomma i giudici hanno un loro modo senza che intanto sempre tramite devo dire anche lo spanni molti giudici sostengono che il discorso dello spanni che è quello che facevamo qualche live fa sia insomma una buona spia del peso corretto in realtà non è esattamente così cioè ci vuole proprio un'esperienza della razza notevole per capire tramite lo spanni se il peso è quello giusto alcuni per esempio c'è un modo di dire inglese interessante che è il come up in one hand cioè il giudice che riesce a prendere il cane sotto diciamo la cassa toracica e a sollevarlo senza troppi problemi e tra l'altro anche lì si valuta se il cane sia sbilanciato nei pesi nella parte posteriore quindi magari aveva una testa troppo importante una spalla troppo pesante rispetto al posteriore il cane che riesce a essere preso sotto la cassa toracica e tirato e sollevato con una mano senza troppi problemi sarebbe un cane del peso giusto e ovvio che qui rientriamo ancora una volta nelle misurazioni insomma un po' da esperti cioè ove manchi appunto la numerazione bisogna affidarsi a questo tipo di manualità e devo dire che però insomma a esperienza personale mi verrebbe da dire che è abbastanza vero cioè un cane che non si riesce a sollevare io non sono senz'altro Hulk a parte magari il carattere ogni tanto ma una persona normale insomma diciamo un uomo normodotato adesso non so come esprimermi ma che riesca a usare le braccia in maniera ma anche tutto sommato non facciamo discorsi sessisti va molto bene anche se ci riesce una signora cioè una signora che riesce a prendere un cane sotto la cassa toracica e ad alzarlo e mi rendo conto che sono misurazioni un po' così però in effetti ci potrebbero ci potrebbe dare come dire quella sensazione di correttezza rispetto al peso sono tutte misurazioni che appartengono alla tradizione quindi oggi come oggi insomma in un'epoca in cui siamo pensando ad alcune razze ad alcuni standard al millimetro per capire se il cane sia più o meno corretto noi qui insomma come sapete ma l'abbiamo getto tante volte siamo in un ambito proprio di ancora di interpretazione forte e per fortuna insomma insieme all'interpretazione forte c'è un certo rispetto per la razza e quindi insomma a parte appunto discorsi diversi o meglio risultati diversi avuti in decadi diverse devo dire devo dire che in qualche modo questa insomma questa direzione precisa da prendere sempre verso questo tipo di parametri di peso è presente cioè è una cosa che preoccupa sempre gli allevatori seri e quindi insomma in questo senso direi che nonostante appunto fin dal riconoscimento della razza questo sia stato un elemento di discussione forte come dicevamo in qualche modo però questo gioco a ribasso ha fatto in modo che nonostante poi la via sia stata un po' tortuosa come dicevamo nei vari decenni ci ha permesso di avere ancora oggi di insomma di vedere anche da diversi allevamenti molto diversi taloni invece dei cani che si avvicinano molto a questo tipo di 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 peso ripeto il questo avvicinarsi soprattutto come dire avvalorato dal temperamento giusto ha un valore anche se non è anche se non è riscontrabile esattamente rispetto a quello standard dice ha un valore assoluto nel momento in cui il cane anche che non soddisfa quel tipo di di numeri abbia un buon atteggiamento un buon temperamento quindi senza esagerare nel senso che vi faccio un esempio banale un cane di questi che fosse anche di temperamento ideale che però fosse intorno ai 10 kg come dire preoccuperebbe secondo me cioè pensando anche alla coscienza un po' di chi alleva preoccuperebbe qualsiasi allevatore cioè utilizzare un cane che arriva a pesare 10 kg e vi assicuro che ce ne sono ma perché a me a me stesso è capitato di allevarli bisognerebbe attentamente capire cosa fare perché comunque siamo davanti a un eccesso notevole e quindi anche qui non c'è purtroppo cioè nel come dire nell'idea dell'ispirarsi a un certo tipo di peso è difficile dare anche dei parametri potrei dire vanno bene 8 vanno bene 8 e mezzo vanno bene 7 per una femmina diciamo potremmo dire di sì a patto che si tenda a non esagerare rispetto a questa cosa cioè credo che poi dipenda anche dal singolo cane cioè magari su una certa struttura un chilo in più si distribuisce magari un cane un po' più alto sugli arti che ha come dire delle linee più slanciate come vedremo poi dopo parlando delle linee generali del cane per chiudere un po' il cerchio come vi dicevo magari su un cane del genere più accettabile un cane che invece è o un maschio di 8 kg che però è basso sugli arti con un collo molto deciso diciamo una testa non proprio ideale un'ossatura troppo pesante dovrebbe far pensare cioè perché pensando appunto allo spanning e a questi riferimenti numerici come dire l'idealità in qualche modo però sarebbe rispettata cioè torneremo torneremo scusate a un cane come quello che vedete in questa foto in qualche modo un cane che non ha esagerazioni questo ovviamente è un cane di tantissimi anni fa però come dire si rispetta un po' quella anche se in maniera molto 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 marginale quella hard work condition di cui si parlava questo non vuol dire anche qui insomma ci sono stati degli esempi abbastanza tristi ma insomma è giusto per capire dove non andare ci sono persone e anche qui parliamo di un po' tutto il mondo che cosa fanno hanno un cane non so poniamo un cane di 9 kg e l'idea qual è è di metterlo e di fare in modo che davvero sia in hard work anzi in hard senza work in hard condition cioè ci sono persone che tendono a ridurre il cane non dico per le ossa ma molto molto magri per soddisfare neanche quel peso ma quella vicinanza ecco secondo me questo è un atteggiamento pericoloso nel senso che si va intanto a come dire a mettere in discussione anche appunto la condizione di salute del cane in qualche modo e poi come dire è un po' come mentire a se stessi in realtà perché alla fine una cosa del genere lascia un po' il tempo che trova cioè parlando di selezione è come se io pensassi dire vabbè insomma voglio il cane rosso e mi viene un po' mi viene un po' grano e poi lo tingo cioè è come mentire un po' a se stesse sto un po' divagando ma così per spiegare un po' qual è quella quella quell'atteggiamento che magari si prende sempre pensando a questa a questa zona ideale in cui vorremmo collocare i nostri cani e e ci si deve però arrivare a quella zona ideale insomma senza scendere a compromessi nel senso cercando invece di allevare di selezionare il più possibile pensando a questo a questo aspetto tra l'altro una delle cose un aspetto interessante cioè che riguarda un po' il come dire la lotta che ogni allevatore fa pensando ai cani che hanno una taglia piccola o magari molto grande perché io anche come sapete ho il problema opposto c'è una sorta forse ne parlava anche andando nella sua diretta quando parlava del discorso della neotenia si pensa ci sia appunto una tendenza dove manchi selezione si pensa che ci sia una tendenza naturale dei cani piccoli a crescere e dei cani grossi a come dire a rimpicciolire quindi anche in questo senso cioè il valore anche della ricerca continua del peso corretto starebbe anche appunto a livello selettivo riuscire a mantenere questo tipo di caratteristiche che sono importanti non tanto per l'estetica del cane come sappiamo ma perché hanno a che fare con la funzione e quindi insomma in questo senso questa tendenza andrebbe davvero sempre ricercata e senza mi permetto di dire senza scoraggiarsi perché ripeto sfido qualunque allevatore di border a dire che non ha mai allevato un cane fuori Italia e quindi questo non vuol dire che si è fatto un cattivo un cattivo lavoro ma spesso appunto forse questa è anche senza altro un discorso selettivo ma questa forse anche questa tendenza al punto della specie canis familiari sa riprendere delle sembianze di cane ancestrale di media taglia che ricorderebbe forse il lupo non lo so non so esattamente come dire ci dà un po' anche la temperatura di quanto sforzo noi ci dobbiamo mettere in qualche modo tutto tutto questo discorso gigantesco è per dire appunto che da sempre il border ha come dire insegue questo questo peso ideale che non è facile che non è facile raggiungere mi verrebbe da dire soprattutto pensando ai maschi perché personalmente ma penso di poter dire lo stesso anche di Daniela perché noi ci confrontiamo praticamente giornalmente con i nostri risultati da tanti anni e con le femmine forse si riesce meglio a come dire ad ottenere delle cagne con dei pesi davvero apprezzabili con i maschi forse si fa più fatica però insomma diciamo che lo sforzo è continuo le cucciolate poi sono ovviamente eterogene c'è uno sforzo selettivo e quindi noi anche anche in questo senso mi riallaccio al discorso della conservazione dovemmo cercare più che mai di portare avanti il discorso che ci hanno come dire affidato gli elevatori del passato e cercare di mantenere per quanto più ci è possibile come dire questo peso io parlo dell'allevamento ovviamente perché magari appunto ne parleremo facendo una diretta sul mondo espositivo molto spesso nel mondo espositivo io parlo del border e parlo ovviamente della taglia mi sto riferendo a questa cosa è passata cioè il discorso del peso soprattutto per i giudici che non sono esattamente degli esperti della razza mi sa che sta passando il nostro amico Peter come al solito dicevo molto spesso questa cosa della taglia non è considerata quindi insomma affidarsi completamente al discorso espositivo e penso ma non solo all'Italia ma anche un po' in giro per il mondo ci sono dei cani che emergono che da quel punto di vista sono proprio forse esagero dicendo preoccupanti ma di fatto insomma abbiamo degli esempi davvero da noi in giro insomma un po' dappertutto e quindi secondo me la nostra serietà starebbe un po' in questo proprio parlando di rispetto per chi ci ha preceduti in qualche modo e quindi direi che l'attenzione al peso l'attenzione alla taglia mi sentirei di dire che davvero è una cosa fondamentale arriva alla fine dello standard ma è una delle cose davvero importanti che andrebbero rispettate esattamente come tutte le altre ma più che mai perché perché sappiamo bene insomma gli elevatori sanno bene che non è una cosa semplice e quindi come scoglio da superare andrebbe davvero affrontato con tutta l'energia e con tutta la volontà possibile ecco direi che sul peso insomma più o meno ho detto tutto ecco una cosa importante una cosa importante che ha a che fare ancora col mondo espositivo ma è proprio una piccola nota come potete immaginare insomma in un ambito in cui spesso i cani sono sono fuori taglia come diciamo a diversi come dire a diversi livelli a me è capitato di vedere sempre quel famoso craft anche di cui ho parlato davvero abbiamo parlato con Daniele anche con altri praticamente ogni volta spesso non spesso ma è capitato di vedere che cani che magari in mezzo a un gruppo di cani di taglia diciamo non ideale di taglia invece magari un pochino più corretta in qualche modo venissero penalizzati questa è una cosa difficilmente succede come dire succede quando il giudice è un esperto della razza però anche il più esperto a volte può essere come dire è facile che ci si lasci un po come dire che che l'omogeneità anche l'omogeneità non positiva di un certo numero di cani sia penalizzante rispetto a quello che invece ha delle buone caratteristiche ma in qualche modo è diverso dagli altri per lo meno dal punto di vista come primo acchito e quindi anche in questo senso insomma bisognerebbe sempre cercare anche noi allevatori magari davanti a dei cani che ci sembrano più promettenti dal punto di vista morfologico e magari chiuderemo volentieri un occhio sulla taglia ecco dovremmo sempre stare davvero attenti a questa cosa perché la taglia proprio perché ripeto per l'ennesima volta si ricollega così fortemente con la funzione e quindi col cane che deve andare in tana in quelle zone dell'Inghilterra dove abbiamo detto appunto le prede sono più piccole quindi le tane sono più piccole eccetera eccetera andrebbe sempre andrebbe sempre insomma in qualche modo considerata rispettata scusate io qui mi sono magari mi sono un po' sono nato un po' abbraccio mi sono un po' confuso sulle cose però spero che il messaggio sul discorso della taglia corretta e del come dire del che sia un po' un bersaglio quella cosa cioè una cosa importante che dovrebbe essere importante davvero per tutti perché come tutti quelli che frequentano la razza da un po' sanno bene scusate mi ripeto per l'ennesima volta la metterei a pari della qualità del pelo e della proporzione del cane muso questo è uno dei problemi più macroscopici della razza cioè i cani fuori taglia sono una realtà e quindi andrebbe come tale visto che come abbiamo detto più di una volta i pochi parametri che lo standard ci dà andrebbero seguiti più che mai in maniera in maniera precisa e quindi adesso smetto di darvi il tormento con il peso ma direi che insomma è davvero una cosa importante quindi trovo sia giusto insomma sottolinearla lo standard in realtà si chiude qui nel senso che la taglia è l'ultimo è l'ultima nota diciamo tecnica dal punto di vista tecnico che lo standard lo standard ci regala e adesso infatti a questo seguo scusate ecco seguo una nota sui difetti allora la frase è questa tutto ciò che si discosta dai punti sopra cioè diciamo quella frase che leggete ha due due chiavi di interpretazione ovvero questa frase ci dice tutto ciò che si discosta dai punti sopraindicati quindi tutto quello di cui abbiamo parlato finora va considerato come un difetto la cui rilevanza è direttamente proporzionale alla sua gravità e qui ci mettiamo un attimo un punto e virgola quanto meno cioè questa frase ci dice che appunto tutto ciò che si allontana dalle caratteristiche che abbiamo visto e che quindi sono morfologiche come abbiamo visto per esempio gli anteriori i posteriori il collo insomma tutte le parti che abbiamo analizzato la testa la proporzione cioè tutto quello che si discosta dall'idealità è da considerarsi in base a quanto si discosta appunto da quest'idealità e quindi questa è una cosa assolutamente importante nel senso che niente a meno per quanto mi riguarda niente dovrebbe essere preso con leggerezza o giustificato in virtù del fatto come dire di qualche altra caratteristica in cui invece magari il cane eccelle vi faccio un esempio banalissimo un cane ben costruito ma con una testa non bellissima rimane un cane come l'ho descritto cioè quindi un cane con una testa poco tipica e quindi abbiamo visto la testa nel border è una cosa fondamentale perché come dire corrisponde da un'unicità rispetto ad altre razze terrier andrebbe senz'altro considerata insomma bisognerebbe questo che scrivevo sulla presentazione cioè la considerazione di difetto non come cosa grave o più o meno grave ma quanto incide sulla come dire sulla sulla sull'aderenza del singolo cane ai dettami dello standard cioè è importante il difetto è in questo senso e quindi va considerato nella nella peculiarità quindi nel difetto in sé e soprattutto a come incide poi come dire sul quadro generale del cane in qualche modo no e il fatto che sia che deve essere considerato in base a quanto è grave penso sia abbastanza insomma semplice come come idea riparliamo della testa un cane che ha un muso molto lungo rispetto al cranio è un cane che ha un difetto importante di tipo e quindi pensando a questa prima fra a questo primo pezzo suonato della frase è senz'altro da tenere in considerazione sempre e comunque come appunto nel come singolo problema e che poi però si ripercuote sulla come dire sulla tipicità del cane nella sua nella sua interezza la cosa interessante anche però è la frase con la quale si chiude questa nota sui difetti quindi che il difetto è direttamente proporzionale alla sua qualità e alle conseguenze che può avere sul lavoro ovviamente io qui ho aggiunto in tana perché si intende quello questo insomma è una è una nota importantissima cioè lo standard cioè questa frase ci dice il cane deve essere il più possibile tipico rispetto alle considerazioni che sono state fatte e però ogni difetto deve essere anche preso in considerazione rispetto a quanto possa incidere sull'abilità lavorativa del cane stesso quindi capirete che visto che abbiamo appena parlato di taglia un cane di molto fuori taglia come dire ha un difetto talmente importante che potrebbe compromettere la sua abilità di cane da lavoro se pensiamo come abbiamo detto che oltre al fatto temperamentale il border terrier che è l'incipit appunto scusate la frase che è l'incipit dello standard il cane è essenzialmente un terrier da lavoro e poi ci viene detto nei difetti che tutto quello che come dire esce dalle caratteristiche desiderabili e va a incidere sull'abilità lavorativa del cane è da considerarsi grave per quanto si allontana da questa va considerato grave quindi capirete che in questo senso come qui scrivo il tipo e il temperamento sono in assoluto i due punti di partenza fondamentali un border terrier che non ha delle sembianze ideali da border terrier è comunque un border terrier e l'abbiamo capito quindi il tipo però ideale unitalmente al temperamento fa in assoluto il cane che come dire più soddisfa questo tipo di frase che più si trova a non fare appugna appunto con questo tipo di problemi direi come abbiamo detto fino adesso insomma pensando alla taglia come altro lascia passare fondamentale per non rincorrere appunto in questo capitoletto dei difetti dicevamo sempre pensando appunto un'altra volta alla funzione del cane la pelle e il mantello per i motivi di cui abbiamo discusso nella scorsa live quindi pensando a queste tre macro aree quindi il tipo e il temperamento insieme ho messo perché mi sono tutto sommato tipo orfologico lo abbiamo detto insomma ha molto a che fare anche col temperamento insomma sono due caratteristiche che dovrebbero viaggiare proprio di pari passo se non altro pensando alla selezione la taglia la pelle il mantello insomma sono quelle caratteristiche diciamo generali che permettono al cane di fare che permettevano e permetterebbero ai cani che alleviamo oggi di fare il lavoro per il quale erano stati selezionati e ancora una volta qualsiasi difetto più o meno marcato che si distanzia da questo tipo di idealità va considerato molto attentamente quindi in realtà anche questa sembra una frase abbastanza vaga ma ci dà delle indicazioni invece molto molto precise cioè ci dice che i border oltre a essere un cane che deve essere tipico ed avere il carattere giusto perché come vi ricordate nelle prime live che se non lo ricordate vi rimando a un riascolto anche il temperamento deve essere quello sono un cane come ho detto vivace attento sempre pronto a lavorare insomma e quindi della taglia abbiamo parlato oggi insomma tutte queste caratteristiche che sono al di là poi delle misurazioni il collo le spalle le cose che abbiamo visto in generale rispetto a quello che vorremmo aspettarci da un cane tipico sono quelle cose fondamentali che ci permettono di considerare un cane non senza difetti ma che meno come dire minano questo tipo di quadro di tipicità rispetto alla funzione e c'è scritto proprio qua c'è scritto sullo standard cioè che il difetto è considerabile soprattutto alle conseguenze che potrebbe avere per il cane sul tipo di lavoro che deve fare e quindi insomma più di così direi che è pur vero che lo standard del border terror in qualche modo è come abbiamo detto più volte è a maglie molto larghe insomma si può interpretare anche se in realtà secondo me dopo un po' che si pratica la razza si capisce che più di tanto interpretare non si può o perlomeno non sarebbe onesto pensando alla conservazione di certe caratteristiche però in effetti qui abbiamo seppur in maniera molto molto vaga cioè senza il centimetro abbiamo però insomma sappiamo ci viene detto quello che ci serve e quindi insomma direi che anche parlando di difetti come concetto generale qui abbiamo un'indicazione piuttosto precisa insomma lo standard ci dice chiudendosi definitivamente da che parte andare e quindi insomma direi che che siamo davanti a delle indicazioni molto 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 precise e queste indicazioni secondo me servono un po' a tutti nel senso a come ho detto sono praticamente ad ogni live all'allevatore più che mai adesso qui sono già andato un po' avanti ma perché chiudiamo davvero un po' il cerchio all'allevatore più che mai al giudice sì perché comunque anche il giudice responsabile dovrebbe riuscire a guardare il cane in maniera appropriata e dà delle indicazioni ulteriori all'allevatore soprattutto pensando a chi magari alleva che ha le prime armi alle prime esperienze e poi anche al singolo proprietario che per quanto mi riguarda si è voluto un cane di razza è giusto anche che impari a guardarlo e impari a riconoscere quelle che sono le sue caratteristiche morfologiche e temperamentali ovviamente come abbiamo detto praticamente fin dalla nostra prima della nostra prima dal nostro primo incontro e quindi lo standard così si chiude queste sono invece note che io mi sono permesso di aggiungere proprio per come dire dare una sorta di siamo in orario sì siamo in orario dare una sorta di rispolverata generale a tutti i lunghi discorsi che abbiamo fatto allora questo è un concetto di cui scusate se mi riferisco sempre sempre solo a Daniela ma perché come sapete insomma la storia un po' dell'allevamento qua in Italia è un po' passata attraverso le nostre esperienze poi come sapete magari faremo faremo magari una live dove racconteremo un po' la storia della razza in Italia potrebbe essere interessante questo concetto di balance che è ovviamente un concetto che arriva dalla cinofilia inglese che non ha come dire non può essere in qualche modo scritto o spiegato ma il balance è una sensazione che il cane deve dare io ho scelto ancora una volta la foto di questo cane che è una femmina inglese allevata qualche anno fa è una campionessa inglese direi molto meritata in cui però questo concetto di balance è abbastanza e direi che si nota piuttosto bene allora il balance passa da come dire da dei tratti fondamentali che è quello che ho riportato qui la prima che anche uno dei devo dire forse più nei maschi che nelle femmine è uno anche come dire dei difetti di balance quindi di un difetto non di una piccola zona o come abbiamo visto negli incontri precedenti della spalla o del garretto la coda lunga il balance si parla cioè questa idea di balance si parla anche di proporzioni la propria spesso spesso no ma capita che soprattutto pensando ai maschi che hanno una testa più importante evidentemente rispetto alle femmine per il discorso della masconilità insomma eccetera eccetera il cranio più grosso eccetera spesso capita che questo concetto di balance sia un po' disatteso perché la testa risulta essere un filo sproporzionata rispetto al corpo e questo diciamo che è la prima nota secondo me cioè una buona proporzione tra testa per un cane che ha una testa così particolare ed il resto del corpo esattamente come vedete in questa foto dove secondo me la proporzione a meno poi me lo confermerete se avete delle impressioni a riguardo dove la proporzione tra la testa e il resto del corpo è direi ottimale questo diciamo è il primo come dire è il primo è il primo sguardo dove come dire è la prima immagine in cui il balance un po' si palesa perlomeno guardando un cane così insomma di primo acchito diciamo quindi una buonissima proporzione tra testa e il resto del corpo come succede in questo in questo soggetto passerei poi al balance senza altro e qui non l'ho scritto ma ha senza altro a che fare anche con il movimento un buon balance si vede molto anche quando il cane trotta cioè il cane è ben bilanciato quindi ancora una volta io qui ho scritto appunto le proporzioni del corpo sono come vedete in questo caso come dire soddisfatte pensando allo standard quindi delle buone spalle dei buoni posteriori non esagerati una buona schiena un buon collo una buona linea ventrale quindi tutte le linee tutti gli angoli che abbiamo studiato approfonditamente nelle scorse live soddisfano ancora una volta questa idea di bilanciamento in qualche modo di questo bilanciamento che rende il cane come posso dire attraente in un certo senso ecco forse sì un buon bilanciamento un buon balance ovviamente passa anche da visto che abbiamo parlato della testa della proporzione con il corpo senza altro anche da una coda ideale questo forse più che col balance ha a che fare ancora una volta col tipo ma devo dire che per quanto mi riguarda l'idea è che siano il balance e il tipo nel bordo sono veramente molto stretti come concetti e senza altro lo satura cioè capirete che come vedete bene in questa foto un cane di questa taglia con queste appunto con queste proporzioni con questo satura mi verrebbe da dire ideale soddisfa ancora una volta questo concetto di balance è ovvio che probabilmente questo è per i più sensibili a questo tipo di concetti è una cosa che balza all'occhio più velocemente io devo dire la verità ho ci ho messo un po' ho dovuto affinare un po' come dire il modo di guardare il cane per capire esattamente dove stia questa sorta di sensazione di estremo bilanciamento ma insomma ci si può riuscire ecco quindi è senz'altro forse legato un po' anche all'esperienza ma con la sensibilità si può arrivare a capire come sia o cosa sia un cane che ha un buon bilanciamento un buon balance come vi dicevo questa cosa è senz'altro anche riscontrabile soprattutto riscontrabile anche quando il cane muove cioè se tutte queste noti sono soddisfatte anche il movimento darà ancora una volta l'idea di un ottimo bilanciamento di un ottimo balance usiamo la parola inglese che fa più fine e quindi insomma ecco diciamo che questo è un concetto un po' generale ma che secondo me serve un po' a tutti a capire non dico al primo sguardo ma in qualche modo sì insomma a capire senza l'analisi che abbiamo fatto in maniera così pedissima nelle nostre live a capire se è un cane c'è o non c'è in qualche modo e devo dire parlando anche di un cane dal vivo cioè guardando un cane dal vivo riusciamo nel balance anche se qui non l'ho riportato ci metterei anche il discorso della taglia cioè un occhio un po' allenato neanche troppo allenato insomma ci sono degli esempi di cani anche ben costruiti che hanno un buon balance generale che però sono insomma questa sorta di bilanciamento viene rovinato completamente dalla taglia e quindi insomma diciamo io qui non l'ho messo perché il concetto di balance è proprio legato all'armonia tra le parti e al movimento di queste parti una volta che il cane è in movimento e però devo dire anche il peso e la taglia non tanto il peso ha il suo insomma gioca un ruolo fondamentale in questo tipo di 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 visuale insomma di modo di guardare ecco altri due devo dire concetti che forse si rifanno ancora una volta beh senz'altro al tipo eccetera non a caso qualità e tipo sono dei concetti abbastanza questo tra l'altro è il claim di un famoso allevamento inglese storico direi il claim di questo allevamento è proprio quality and type cioè la qualità e il tipo per chi alleva questo tipo di razze io penso che è un discorso che si possa fare per tutte le razze ma la qualità e il tipo sono ovviamente quello che per un allevatore come dire sono i due concetti che in qualche modo più inorgogliscono ma non tanto pensando ai risultati espositivi che inorgogliscono dal punto di vista direi sempre del mantenimento di determinate caratteristiche cioè come dire inorgogliscono perché forse si ha la sensazione che si è riusciti in qualche modo a non rovinare questo animale magnifico che ci è stato come dire questo testimone che ci è stato passato insomma la qualità e il tipo credo che per tutti gli allevatori sia una sorta di non dico di mantra da mettere in gioco ma in ogni caso è una cosa davvero molto 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 importante e diciamo che anche questo tipo di atteggiamento è soddisfatto da alcune da alcuni elementi che ripeto abbiamo già visto io qui sto cercando di fare una sorta di riassuntone generale per per così per cercare di far capire ancora una volta che tipo di cane veramente abbiamo per le mani e quindi ovviamente quality and type visto che parliamo ancora di tipo voi insomma spero converrete con me pensando che la testa sia per chi ama il border una delle cose davvero più importanti per quanto mi riguarda lo è cioè dal punto di vista del tipo secondo me la testa non è uguale in questo cane cioè nonostante se ne apprezzino tutte le altre caratteristiche ma la tipicità della testa come abbiamo visto praticamente all'inizio di queste live non mi vero cioè nel senso per me è davvero importante magari sono sono esagerato nella cosa ma secondo me a me hanno insegnato così diciamo i miei i miei i miei maestri mi hanno insegnato che la testa di questo cane è davvero importante e quindi forse su tutti gli altri aspetti fa proprio il tipo del cane e ne determina scusate in qualche modo la qualità l'altro come dire l'altro dato sempre che ci parla ancora una volta di tipo pensando proprio alla come dire la prima immagine che si ha della razza è senz'altro io qui scrivo l'ho segnato come disegno cioè quindi come sembianza morfologica scusate c'è una zanzara che mi sta andando in tormento come dato morfologico fondamentale questo disegno tipico che in effetti solo questa razza abbiamo visto che non è un cane di quelli che insomma come dire fanno spettacolo dal punto di vista morfologico la tipicità sta proprio in questo ancora una volta un cane che dissimula le sue grandi capacità le sue grandi possibilità ma questo disegno tipico della razza come dire ne evidenzia sempre e comunque in qualche modo la tipicità e quindi si rifà in un certo senso al discorso ancora una volta del tipo quasi allo stesso livello della testa io dico quasi perché davvero avete capito che ma non sono solo io nel senso veramente è un atteggiamento che ho imparato ho imparato a capire che la testa è davvero una cosa importante in questo cane parlando ovviamente di tipo è ovvio che poi è importante quello che ci sta dentro la testa pensando a un cane da lavoro ma parlando squisitamente di tipo e di ricerca morfologica la testa perdonatemi se mi ripeto davvero per la duecentesima volta è fondamentale cosa ci riporta ancora questo concetto di qualità e di tipo senz'altro il mantello pensando alla tessitura anche alla condizione del pelo perché no perché insomma è sempre gradevole vedere un border in buone condizioni di mantello perché poi nelle buone condizioni di mantello noi ritroviamo non dico noi pensando solo ai selezionatori ma in generale a chi è un estimatore della razza anche dal punto di vista morfologico in un pelo in un mantello in buone condizioni ritroviamo quelle caratteristiche che in assoluto lo standard ci richiede e quindi direi che anche il mantello come dire coaduva le altre le altre caratteristiche nel riconoscimento di qualità e di tipo del border terrier un'altra cosa che a me sta molto a cuore anche perché come dicevo negli ultimi tempi mi permetto di dire a me ma insomma mi faccio portavoce degli esperti inglesi per carità non è una mia impressione è proprio un'esigenza che ha anche a fare ancora una volta con il tipo la coda la forma della coda l'abbiamo vista qualche sera fa questa è mi permetterei di dire quasi a livello della testa nel senso che è una buona coda è proprio una caratteristica sulla carta di identità fondamentale e quindi insomma questo corrisponde ancora una volta a dare direi anche nel balance se non ho detto prima una buona coda ben portata come dire aggiunge punti anche al discorso del balance che facevamo prima il discorso che abbiamo visto stasera che è quello della taglia ma non solo della taglia in quanto appunto a pesi e misure come dicevamo ma come dire a una certa proporzione rispetto a quello che ci si potrebbe aspettare da un cane del genere e anche qui vi riporto se non riesco a piegarvelo a parole perché ho dei limiti evidenti guardate questo cane cioè io qui mi sono riferito a una frase di questi commenti che è not heavy and coarse che vorrebbe dire insomma non pesante e nemmeno grezzo in qualche modo cioè il bordo deve essere un cane deve dare l'idea di essere un cane di sostanza ma mai grano e soprattutto un cane troppo pesante perché come abbiamo visto nel pesante cioè nel pesante il pesante è interpretabile ancora una volta in due maniere nel pesante il pesante che ha proprio a che fare con il peso quindi un cane troppo fuori la taglia desiderabile ma anche un pesante a livello strutturale quindi magari i cani che hanno delle strutture pur all'interno di un peso accettabile come dicevamo delle proporzioni magari con uno più bassi sugli arti con un'ossatura più forte che in qualche modo li rendono appunto scusate più grezzi cioè un cane meno non possiamo parlare di raffinatezza nel bordo perché non possiamo la raffinatezza non è una parola che appartiene a questa razza però appunto un conto è essere un cane ben strutturato e un conto è essere un cane tozzo in qualche modo poco strutturato da questo punto di vista e quindi insomma queste caratteristiche insieme al senz'altro al discorso del balance come dire tutte insieme ci regalano questo tipo di cane che è quello che vedete in queste foto ma che è anche insomma quelli che abbiamo visto nelle foto precedenti nelle scorse serate e come dice appunto quando abbiamo un quadro del genere abbiamo un border terrier e quindi insomma direi che chi ama la razza è diventa una cosa un po' imprescindibile io mi rendo conto che dal punto di vista del proprietario o chi si avvicina alla razza soprattutto pensando al temperamento ed è in assoluto la cosa l'abbiamo stabilito importantissima penso che un cinofilo mi permetto di dire questa cosa un cinofilo non debba e non può un cinofilo che vuole come dire che apprezza in qualche modo il cane di razza non si debba mai accontentare di una visuale in qualche modo relativa poi ovviamente ognuno arriva quello che ognuno fa quello che vuole ognuno ha la propria esigenza però direi da appassionato forse anche un po' tanto appassionato ma come lo siamo più o meno tutti andare a fondo rispetto a questi concetti secondo me è doveroso anche nei confronti della razza quantomeno perché come tutti sapete abbiamo per le mani una razza davvero fantastica e quindi dovremmo sempre cercare di avere questo sguardo insomma e soprattutto pensando agli elevatori e coinvolgendomi ovviamente pensando di allevare sempre questi cani che hanno quel balance che hanno qualità e hanno tipo perché come avevo già citato e questa è una frase che conosce bene anche Daniela perché credo l'abbia sentita a dire dal diretto interessato il nostro insomma uno dei nostri guru che è il signor Ronnie Irving il Borden non dovrebbe mai mai e poi mai sembrare un semplice cane rossiccio come lui o un semplice cane marrone come dicevano pur insomma ben stabilito credo in queste serate che non sia un cane estetico in tutti i sensi ma davvero non dovrebbe mai dare l'idea di essere un cane in qualche modo comune e quindi questo non è un discorso elittario o di follia da allevatori di cani di razza è proprio una sorta di innamoramento rispetto a quello che è la sembianza della razza ripeto non parliamo del discorso temperamentale quello è un discorso vastissimo che tra l'altro abbiamo anche già affrontato ma parlando di morfologia direi che chiudiamo insomma questo ciclo di serate pensando io trovo che in qualche modo queste considerazioni siano almeno per quanto mi riguarda e spero lo siano anche per gli altri allevatori sempre di ispirazione perché al di là del lavoro che riusciamo a fare ispirarsi a cani il più possibile corretti dovrebbe essere ripeto in un'ottica di rispetto e di e di celebrazione di una razza così particolare insomma e della quale tra l'altro ci siamo tutti innamorati e spero che chi ci segue è anche indifferita magari che non ha ancora un board ma che si sta decidendo insomma spero che che queste live siano servite a così a far comprendere che appunto tolto la grossa fetta importantissima e tra l'altro fondamentale nella decisione dell'acquisizione di un cane del genere pensando al temperamento anche la morfologia ha una parte davvero fondamentale e quindi insomma mi direi di celebrarla e di come dire riuscire a portare avanti questo discorso nel tempo con con dei buoni programmi di allevamento e quindi siamo abbiamo finito sono le e beh insomma siamo abbastanza in orario adesso io cerco di raggiungere la schermata della nostra live e siamo qua e ok niente adesso vedo vedo sto scusate sto guardando sto guardando un po' le vostre intanto vi saluto perché vedo insomma dei saluti buonasera a tutti quelli che sono riusciti vediamo se ci sono delle domande allora vediamo buonasera ok isabel dice si peso i cuccioli adulti oltre allo spanning però non so a cosa ti riferivi però vabbè insomma immagino sia una considerazione rispetto a quello che stavo dicendo allora vediamo visto che c'è in slovacchia ho notato nei siti dei Ken scrivo nella misura del garese anche in francia hanno un riferimento di altezza al garese allora isabel si nel senso che diciamo queste sono libere interpretazioni nel senso che come tu saprai lo standard del border terrier nei paesi che sono affiliati all'fc quindi la francia e la slovacchia e tutti gli altri paesi membri insomma quindi i paesi del nord insomma tutti i paesi affiliati adottano lo standard fc che è lo standard che è stato tradotto più o meno letteralmente dallo standard inglese io devo dire uno può prendersi la libertà di di fare anche una misurazione al garese dei cani cioè nel senso non vedo che non penso ci siano delle controindicazioni su questo certo è che se poi uno prende come dire mi dice il cane che ne so 30 al garese ma pesa 8 kg a me e mezzo a me dei 30 al garese non c'è dal punto di vista selettivo che tu mi scriva che il cane è 30 al garese a me non interessa cioè mi devo sempre almeno per come la vedo io mi devo sempre riferire a quello che dice lo standard le interpretazioni degli allevatori cioè se serve in qualche modo dall'allevatore non ha direi che non ci sono controindicazioni per quanto mi riguarda direi che lo spanning è appunto questa propensione ad avvicinarsi il più possibile al peso al peso del cane sia cioè se questa cosa della visura garrese non esclude e non preclude le altre va benissimo cioè ognuno credo sia libero di fare quello che vuole sono riferimenti però forse basati sulla statistica direi di sì nel senso che non so io non conosco i kennel della Slovacchia però insomma la Francia ha una storia selettiva del border abbastanza non dico importante ma comunque abbastanza storica non a livello dei paesi del nord ma comunque in Francia c'è una buona tradizione di allevamento di border lo saprà immagino credo che questi siano riferimenti appunto fatti su base statistica a me sembrerebbe forse più interessante come dire prova infatti tra l'altro ho messo citi la Francia ma forse l'anno scorso si erano tutti messi le mani nei capelli perché la société canin centrale aveva detto per tutti gli standard aveva detto misurate i cani se avete delle misurazioni tutti i cani che escono di 2 kg e 2 cm a seconda del tipo di standard quei cani andranno tolti dalla selezione e mi ricordo che c'è una allevatrice piuttosto nota in Francia che si chiama Brigitte Bellin che si era opposta fortemente a questa cosa pensando al border forse anche in maniera tutto sommato giustificata perché come vi dicevo il peso del border non è quasi mai quello che lo standard descrive quindi una decisione così drastica da parte di un canale club è una cosa esagerata io poi credo che questa cosa sia decaduta non credo l'abbiano fatto però ritornando al nostro discorso sono misure algarrese bisogna vedere forse a livello statistico potrebbe essere interessante però non so fino a che punto mi serva per determinare la misura giusta cioè anche perché come dicevo il border ha delle ma penso che succeda anche nelle altre razze ci sono cani che all'interno dello stesso peso hanno altezze e come dire proporzioni molto diverse quindi facciamo un esempio se un cane di una femmina di 6 chili è 30 algarrese poniamo ci può anche essere una cagna che è strutturata diversamente potrebbe essere sempre 6 chili ma in 25 centimetri quindi a cosa mi serve questa discriminazione in altezza se lo standard me lo dà a meno che non si parli che ne so di classi in agility piuttosto che non so è un dato che per quanto mi riguarda nel border è assolutamente soggettivo cioè non lo utilizzerei come discriminante però ripeto questa è un'idea mia e poi gli allevatoni in Slovacca faranno in Slovacchia scusate faranno diversamente però direi che io rimarrei più fedele sul discorso del peso perché ripeto se mediamente dei cani sono 30 centimetri e poi in quei 30 centimetri mi piacerebbe capire il peso del cane poi alla fine mi rivolgerei comunque al discorso del peso però ripeto magari è un mio atteggiamento e va benissimo e va benissimo quello che fanno anche gli altri allora Isabel mi chiede un'altra cosa Marco avresti un'idea di quale sia linea di sangue responsabile del peso io ho provato a indagare ma nessuno dei proprietari del gruppo inglese del Borden mi ha risposto Isabel purtroppo non è un discorso legato alla linea di sangue nel senso che io mi riferisco ovviamente a più o meno la storia del cane e dei cani inglesi diciamo degli ultimi 30 anni come dicevo anche prima tutti tutti nessuno escluso ha tutti hanno sperimentato il fuoritaglia in varia misura anche perché mi ricordo guardando anche gli yearbooks dei vari anni del Border Trail Club ci sono evidentemente anche in foto si vedono dei cani che sono evidentemente fuoritaglia ed erano i cani che in quel momento rappresentavano i vari kennel poi i vari kennel sembra la marca del trasportino cioè i diversi i diversi allevamenti poi ce ne sono alcuni che sono riusciti invece a mantenere delle taglie costanti nel tempo ma non mi sentirei di individuare in Inghilterra degli allevamenti che hanno tutti i cani in taglia ed allevamenti di cani che hanno tutti i cani fuoritaglia cioè direi che tutti e forse anche Daniela lo confermerà anche in Nord Europa ci sono diversi allevatori che hanno avuto dei risultati notevoli dal punto di vista dell'allevamento ma che hanno comunque sempre si sono comunque sempre confrontati col discorso della taglia e quindi non mi sentirei di di individuare una singola linea di sangue perché come dicevo il problema della taglia corretta era oggetto di discussione fin dal 1920 quindi insomma evidenziare un certo tipo di problema rispetto a un solo allevatore non credo sia possibile la stessa cosa è successa anche in America e Daniela lo sa bene qualche anno fa una decina più o meno a un certo punto in America si vedevano solo cani fuori taglia cioè cani proprio grossi grandi evidentemente questo per dire ancora una volta che al di là di quello che può essere l'indirizzo dell'allevatore che può essere più o meno attento questo probabilmente è un problema che colpisce un po' tutti quindi insomma anche in questo caso evidenziare o pensare a una sola fonte del problema mi risulta un po' impossibile ecco penso anche alla Germania mi ricordo quando ho incominciato c'erano dei cani tedeschi che erano cani ben fatti e tra l'altro quasi tutti di linee inglesi che arrivavano da linee inglesi ma cani che arrivavano anche ai 9 kg abbondanti poi è ovvio che Isabella l'allevatore non ci tiene a dire guarda io allevo cani da 8 kg e mezzo non te lo dirà mai nessuno caso mai te lo dirà quello che invece che riesce ad avere sai il mio cane pesa 7 kg e te lo metto sulla bilancia se vieni a trovarmi allora quello sì è ovvio che sul difetto nessuno è contento poi insomma gli inglesi sono abbastanza omertosi da questo punto di vista però adesso a parte gli scherzi devo dire secondo me è molto difficile evidenziare una linea di sangue una linea di sangue che dia in maniera precisa quel problema proprio perché scusate mi ripeto ma è un problema che tocca davvero che ha toccato e tocca tutti gli allevatori penso che chiunque di noi possa possa dire di avere allevato anche in una singola cucciolata un cane che era più corrispondente a livello di taglia e di peso rispetto allo standard e invece nella stessa cucciolata averne uno che invece è oltrepassato a me è capitato insomma non mi vergogno a dirlo perché comunque è una difficoltà che gli allevatori di border affrontano di cucciolata in cucciolata e quindi insomma direi che bisogna insomma più che pensare all'allevamento in sé o la linea di sangue bisognerebbe riuscire a studiarsi con esattezza i pedigri cioè avere un'immagine del cane dei cani che compagnano dei pedigri è ovvio che l'immagine fotografica ti aiuta relativamente però insomma magari se sei molto interessata potresti magari arrivare a chiedere e io quando ho preso il mio primo cane inglese che ho avuto io ho chiesto insomma mi sono un po' informato sulle linee di sangue ed è stata una delle prime cose che ho chiesto ho avuto per le mani un cucciolo che era promettente ma insomma alcuni hanno conosciuto quel cane non era di sicuro un cane piccolo cioè non era un cane pesante era un cane un po' alto sugli arti e quindi aveva una proporzione di cane piuttosto slanciato non era un cane pesante però quindi insomma anche lì scusa Isabel mi ripeto aveva una storia di pedigree importante quel cane cioè aveva dietro dei riproduttori davvero importanti pensando all'Inghilterra però sai poi le interazioni genetiche tra linee di sangue diverse non sono così cioè non ci si può aspettare mai davvero la precisione se poi sul piatto metti il fatto che la taglia è un problema come dicevo e come dico ancora una volta è un problema serio da sempre non è facile cioè non è facile cioè non che non sia facile individuare direi che non è la maniera giusta cioè non non mi metterai alla ricerca del come dire del paziente zero che da lì ha dato tutti i cani fuori taglia perché era un problema come dico generalizzato rispetto proprio ai primi riproduttori fin dai primi anni del novecento e quindi e quindi direi calcola una cosa però Isabel se ti interessa andare un po' a scavare sulle linee inglesi un errore che gli inglesi non fanno perlomeno non fanno più è quello di come dire laureare campioni che siano molto fuori taglia quindi magari incomincia a basarti su quello cioè vedi un po' i nomi dei campioni degli ultimi che ne so dieci anni e fai le tue valutazioni se riesci poi magari a vedere delle foto magari dei video in cui in cui magari si vede qualche cane e magari in un video riesci a stabilire una relazione magari più precisa rispetto alla taglia e poi quando e se potrai e te lo auguro ripeto se ti interessa il discorso delle linee di sangue inglesi vai una volta o a vedere il crafts o a un raduno di club lì ti fai un'idea precisa intanto del fatto che è un problema generalizzato quello della taglia e poi magari e poi magari ecco appunto chiedendo un po' ti informi un po' e capisci un po' dove puoi andare a parare ecco e niente insomma non saprei cos'altro in qualche in qualche modo insomma non saprei cos'altro risponderti perché in effetti è un problema generalizzato allora vediamo adesso stai rispondendo sicuramente bisognerebbe trovare un equivo con il peso poi per misurare il garese serve un metodo particolare penso quindi non saprei neanche e no certo allora si usa tra l'altro l'ha scritto anche poi Manuela il cinometro è l'unico è l'unico strumento di misura del garese che abbiamo che i giudici o anche noi allevatori abbiamo abbiamo a disposizione però davvero mi ripeto non capisco quale sia lo scopo nel senso che è pur vero che magari a scopo statistico a scopo statistico si potrebbe fare però per quanto mi riguarda io mi preoccuperei davvero sempre di pesare i riproduttori cioè a me l'altezza al garese non interessa perché come sappiamo un cane va in tana e la spannabilità ovviamente come sappiamo che bene un cane va in tana e il punto più grosso il punto più ampio è la cassa toracica quindi che poi se è alto 30 o 35 se la cassa toracica è spannabile a me non interessa quindi dal punto di vista e non a caso nello standard l'altezza come dicevamo prima non è non è citata e quindi mi ripeto scusami scusami ecco infatti sicuramente resti sul peso direi di Sisabel anche perché per fortuna lì il riferimento ce l'abbiamo quello dell'altezza al garese col cinometro tutto sommato non ci serve ripeto a meno che tu non voglia come dire aggiungere alla tua statistica magari pensando anche ai cani che allevi una volta adulti di misurarli per avere così un riferimento un riferimento interessante ecco quindi quindi senz'altro sì insomma una cosa in più che male non fa a patto che non che non diventi determinante allora adesso poi ci salutiamo Dado dice non penso si possa mettere la taglia eh no infatti insomma è praticamente impossibile come dicevo ma come abbiamo insomma stabilito ormai quello della taglia è un problema diffuso davvero credo che nella razza sia forse il più diffuso cioè ogni allevatore più o meno titolato lo ridico per la centesima volta si è trovato a dover fare i conti anche poi con i migliori presupposti anche di riproduttori si è dovuto si è trovato a fare i conti con questo tipo di problematica e davvero non è una come dire non mi sentirei appunto di pensare che sia un discorso completamente selettivo nel senso che anche dai riproduttori magari più in taglia può saltar fuori io penso che abbia a che fare forse con quel discorso di questa tendenza naturale che i cani di piccola taglia vanno a vanno a come dire in autonomia a cercare di tornare a una sorta di ancestralità rispetto alla taglia appunto del primo canide familiare in qualche modo però insomma ecco diciamo che che questo comunque si insomma è un po' così si si e si avevi chiesto i pedigri vabbè diciamo che pedigri e linee di sangue siamo un po' lì ecco non c'è grossissima differenza no ma io avevo capito quello che intendevi ma è davvero è davvero difficile insomma non io farei fatica nel senso che non è praticamente impossibile risalire a un problema del genere proprio perché è molto molto generalizzato guarda potrei solo darti se se Daniela è d'accordo con me ti darei solo l'indicazione dell'America cioè una decina di anni fa c'erano un paio di linee americane tra l'altro insomma che vincevano parecchio che avevano tutti 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 i cani fuori Italia e quindi e quindi però ripeto pensando all'Inghilterra ma anche al nord Europa non è facile non mi è facile pensare a a qualcuno da evidenziare ecco o a un certo ceppo se magari non vogliamo parlare né di pedigree né di sangue sai magari ci sono in altre razze ci sono dei ceppi molto diversi il border in realtà è una razza che va bene ovviamente poi ha avuto un impulso numerico notevole quindi si sono diversificate molto le varie razze ma come ti dicevo prima le poche linee di sangue che c'erano al riconoscimento della razza condividevano in qualche modo il problema le une con le altre e quindi e quindi guarda è più facile pensare a evidenziare le linee di sangue per esempio più che alla taglia pensando alla qualità della testa allora lì sì ci sono delle direi anche si possa fare lo stesso discorso anche per i nordici pensando alla qualità della testa si possono fare delle buone differenziazioni tra l'altro vabbè parlando di linee importanti in Inghilterra le teste sono sempre piuttosto buone però si riescono a evidenziare delle caratteristiche che hanno a che fare come dice appunto sia col pedigree che con le linee di sangue quindi insomma forse con la testa è più semplice con la taglia ti assicuro che non è davvero non è davvero non è davvero semplice comunque insomma grazie davvero a voi per le per le domande abbiamo fatto la solita la solita mezz'ora di sforo e ho visto salutare anche Cristina che ah è in campo bene insomma facciamo gli auguri per la sua nuova la nuova avventura con Shot ho visto con insomma abbiate tutti visto delle foto di Shot in mezzo a dei Malinois dei Rottweiler dei cani in verecondi e lui che si difende bene che tiene alta insomma la bandiera del border in mezzo ai mostri giganti bene bravo Shot e brava Cristina soprattutto siamo arrivati appunto alla fine di queste live ringrazio il pubblico piangendo e no a parte di scherzo per me è stato davvero un piacere parlare di questa grande passione insieme a voi insomma spero che che insomma mi avete dimostrato insomma tanta tanta passione a vostra volta insomma non che non me lo aspettassi perché insomma Daniela Isabel Vanessa quelli che sono stati qui hanno davvero grande passione per la razza quindi insomma si è trattato solo di condividere con voi questa questa grossa passione e quindi insomma concludiamo qui queste live dedicate al commento allo standard sabato come vi dicevo ci vediamo con Silvia Rossi parleremo dell'arrivo del cucciolo vi ripeto insomma credo sia un tema insomma abbastanza interessante e quindi insomma speriamo di avere tante visite e comunque anche poi con come dire con le differite e tra l'altro saluto ovviamente ancora chi ci guarda indifferita speriamo di avervi interessati in qualche modo e quindi vi auguro insomma buona serata buona continuazione ci vediamo sabato e davvero grazie grazie perché sono state delle serate devo dire anche emozionanti per me perché parlare della razza è sempre davvero molto molto emozionante scusate vedo una frase chiudiamo con questa frase di Dado che mi sembra molto carina noi allevatori siamo un po' alchimisti proviamo formule diverse e vediamo i risultati se rispettano le nostre aspettative esatto esatto a me non piace tanto l'idea dell'elevatore artista perché l'artista come dire usa l'esto e la fantasia noi siamo molto come dici tu siamo più degli alchimisti insomma cerchiamo di mischiare delle caratteristiche con un atteggiamento un po' scientifico forse però insomma ci vuole anche sensibilità e quindi insomma è senz'altro tutto vero bene siamo 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 arrivati alla fine ci speriamo di rivederci presto con delle live nuove adesso insomma vedremo di organizzare nuovi incontri perché stare insieme e parlare direi che è intanto divertente per me poi insomma spero di mi auguro sempre che si faccia un po' di cultura intorno alla nostra razza notizie insomma tutto quello che può servire anche i nuovi proprietari e quindi vi auguro buona serata grazie ancora per essere stati qua in queste lunghe sere siamo ormai insieme da parecchi mesi e quindi e quindi grazie vi saluto tutti un abbraccio ai vostri boarder e ci vediamo qui sabato con Silvia buona serata grazie a tutti